Salve amici del Centro Medio Italiano, fronte freddo in transito sulla nostra penisola con temperature in calo e piogge sparse. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 19 settembre. Al mattino tempo instabile soprattutto al centro-sud con piogge e acquazzoni localmente intensi, più asciutta trove ma con ubi sparse. Al pomeriggio acquazzoni e temporali si concentreranno ancora sulle regioni centro-meridionali, schiarite man mano sempre più ampia al nord con tempo stabile. In serata e in nottata fenomeni in progressivo esaurimento con le ultime piogge soprattutto al sud, cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni. Concludendo con le temperature, le minime sono attese in aumento specie al centro-sud, massimi invece in generale calo. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito o sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.